Robert Patrick Amal Amal è nato a Toronto, Ontario, figlio di Gioberdon e Rob Amal, che lavorano nel settore della gioielleria È cugino dell'attore di Harrow, Stephen Amal Insieme alla sorella ha preso parte a vari spot pubblicitari quando aveva sei anni Ha frequentato la Armour Heights Public School e si diploma nel 2006 A 16 anni ha iniziato a recitare in piccoli ruoli al liceo Si è laureato a Lawrence Park Caligit Institute a Toronto nel 2012 Ha fatto il suo debutto cinematografico interpretando Daniel Merto, in Il ritorno della scatenata dozzina Nel 2007 partecipa al film American Pie Presents, Beth House Nel 2008 recita nel film Se mi guardi mi sciolgo in compagnia di Ashley Tisvale È anche apparso nel film horror del 2010 Left 4 Deb Ha avuto un ruolo in La mia vita con Derek Nel 2009 è fra i protagonisti del film prequel Scooby-Doo Il mistero ha iniziato nel ruolo di Fred, ruolo che ha ripreso nel seguito dal titolo Scooby-Doo La maledizione del mostro del lago, uscito nel 2010 Ha avuto un ruolo da guest in un episodio di Al Capraz, serie TV americana Cell 2012 Ha impersonato Steven Jameson nella serie televisiva americana The Tomorrow People e nel 2014 prende parte allo spin-off di Arrow, The Flash nel ruolo di Firestorm alias Ronnie Raymond Nel luglio 2015, Amal è stato scelto per la decima stagione di The X-Tiles come agente dell'FBI Miller Amal ha recitato insieme a Kevin Spacey e Jennifer Garner nel film Commedia Una vita da gatto, uscito il 5 agosto 2016 Nel 2017, Amal ha recitato nel film Horror La Babysitter con Giuda Lewis, Samara Weaving e Bella Thorne Il film è stato distribuito da Netflix venerdì 13 ottobre Ha anche recitato e prodotto il film d'azione fantascientifico Code 8, con Steven Amal co-protagonista e produttore Amal ha iniziato a frequentare l'attrice Italia Ricci nel luglio 2008 La coppia si è fidanzata il 20 agosto 2014 e si è sposata il 15 ottobre 2016 Hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschio, il 12 settembre 2019 Amal è stato fan della squadra di hockey su ghiaccio Toronto Maple Leafs mentre cresceva Sebbene da quando si è trasferito a Los Angeles, Amal ha iniziato a tifare per i Los Angeles Kings Nelle versioni in italiano dei suoi film, Robbie Amal è stato doppiato da Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane